Dobbiamo e possiamo agire. Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, 27 marzo 1976, essere e divenire a cura di VB. Nell'esplicare certi fenomeni che avvengono qua, noi siamo soggetti ad una legge che non possiamo non osservare. Essa fa parte del piano con cui sono disposte queste cose. Tutto deve avere uno svolgimento graduale. Ad ogni piccolo passo che noi possiamo fare deve corrispondere un'accettazione pacifica da parte degli uomini, non traumatica, ed è quindi nell'osservanza di questo principio che noi dobbiamo e possiamo agire. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma mi pare opportuna un'altra precisazione, o figli. Voi avrete osservato che le nostre conversazioni vertono su diversi temi, trattati da differenti punti di vista, proprio perché ci rendiamo conto delle difficoltà che voi incontrate nell'afferrare concetti che esulano dalle umane convinzioni, e perciò cerchiamo di riproporveli da diversi punti di vista e con parole differenti. Appagando la vostra curiosità iniziale circa la condizione d'esistenza in cui ci troviamo noi che abbiamo abbandonato la Terra, abbiamo cercato di prospettare alla vostra attenzione una visione generale di ciò che è, in modo che potete trarre convinzione che nell'esistente non c'è irrazionalità alcuna, che tutto ha uno scopo ed una ragione ben precisi. Se e quanto siamo riusciti in questo intento, voi solo potete affermarlo. Ma illustrare ed ampliare questa visione generale di ciò che è, non costituisce il solo scopo delle nostre comunicazioni, anzi direi che è solo un punto d'attracco per giungere all'altro fine del nostro dire, che è quello di indurvi a porre attenzione al mondo vostro interiore. Non c'è dubbio che la natura abbia la capacità di farvi evolvere, come vi ha condotto fino a questo punto senza la vostra volontà potrebbe condurvi oltre. Ma ciascun individuo ha proprio dalla natura un sussidio al suo evolvere, la possibilità di capire senza esperire direttamente. Noi vi parliamo della realtà che sfugge alla vostra percezione proprio per mostrarvi la verità e la validità dell'altro discorso che vi facciamo. In altre parole, cerchiamo di indurvi a servirvi di quel sussidio che la natura mette a vostra disposizione, così che possiate esperire in modo più proficuo, senz'altro più razionale, tanto da rimuovere le cause della vostra sofferenza, della intolleranza, della incomprensione e via dicendo. Nella vita umana non si tratta di conoscere cose ignote come un fatto culturale, figli cari, ma si tratta di superare la concezione della esistenza poggiante sul senso di separatività. Trovare un'altra coscienza di sé che esuli da una visione egoistica e perciò mi sembra più proprio dire una nuova coscienza, un nuovo sentire. Nessuno può trasfondere in voi questo sentire. Ecco perché vi diciamo che non vi portiamo la verità, ma che vi diamo solo delle indicazioni. La verità è una conquista personale. Se dunque noi non possiamo fare per voi ciò che voi solo potete e dovete fare, non manchiamo tuttavia di richiamare la vostra attenzione al vostro mondo interiore, proprio attraverso alle parole di Claudio. Anzi direi che tutto quanto noi diciamo ha lo scopo di aiutarvi a costituire la vostra coscienza individuale, anche se ci rendiamo conto che possiamo agire solo indirettamente. Voi forse vi chiedete perché continuiamo a parlarvi della realtà che sta attorno a voi, se siamo convinti di ciò che diciamo. Ebbene, lo facciamo perché ci rendiamo conto che non possiamo ripeterci fino alla noia. Quando Claudio ha sinteticamente ma sufficientemente indicato che tipo di analisi voi dovete fare, ha già detto tutto quanto si può dire su questo argomento. Il resto è certamente la parte più importante. Voi soli la potete fare. Voi soli, nel segreto della vostra intimità, potete svelare il vostro mondo interiore, comprendere la vostra natura segreta. La psicologia, la psicoanalisi riescono solo a graffiare la vernice che nasconde l'intimo di ogni uomo o figli. Conciò non nego la validità di queste materie, ma affermo che l'analisi che ciascuno di voi può fare su se stesso, va molto di là da quello che gli altri possono fare per voi. Consapevoli di tutto questo, continuiamo a parlarvi del mondo che sta attorno a voi, confidando che ciò serva a indurvi ad analizzare voi stessi, a scoprire quel ben più vasto mondo che è nell'intimo vostro. Tale è la nostra costante premura, o figli.